Devo dire che negli ultimi anni l'Università di Messina, nella mia persona, sta investendo molto su questo territorio. Vogliamo chiudere il cerchio lavorando anche nel contesto della Petrosa di Scalea, che è un insediamento gemello per la fase più antica, arcaica e notria di Tortora. Quindi finalmente è l'occasione, dopo 40 anni di attesa, di fare delle ricerche a Scalea. Quindi ringrazio a questo proposito gli amministratori di Scalea, che con grande sensibilità hanno inteso intraprendere questa nuova avventura, che se Dio vuole da settembre sarà attiva.